Io non rischio una campagna importante, formativa, educativa ed informativa onde evitare di rincorrere le emergenze ma educare i cittadini, educare le persone a gestire e a prevenire soprattutto in situazioni di emergenza. Ci siamo anche noi nel mondo paralimpico da sempre uniti con la protezione civile e soprattutto come in questo caso su campagne che hanno un valore a mio modo di vedere particolarmente importante per le persone ma per il paese e la cultura del paese.